Salve e benvenuti in Dr. Spy. Oggi vi presentiamo una chiavetta USB con telecamera 1080p, angolazione 75 gradi, microfono medirezionale fino a 5 metri, infrarosso fino a 2 metri. Questa chiavetta vi darà la possibilità di registrare in continuato per circa 2 ore in alta risoluzione e avere delle registrazioni audio e video di ottima qualità. Potete inserire una microSD card fino a 32 giga e potete utilizzare la chiavetta sia come classica chiavetta USB o come telecamera audio e video. Il dispositivo è disponibile presso il nostro negozio direttamente sul nostro sito. Vi ringraziamo per averci seguito. Grazie.